Buongiorno, buongiorno, coccodrilli, ci siamo, ci siamo, anche stamattina sta pieno No Ciola Ah Rancia Limone Scusate Oh, che non lo faccio più Non lo faccio No Vabbè, anche stamattina ragazzi, ve lo dicevo prima Sta pieno, eh Pieno, 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 pieno Dunque, vi volevo far vedere che Ora è 10 Ancora dormimo? Ma c'è il terreno Buongiorno Buongiorno, non cazzo Ma là se sveglia le diecine Voi fate una vita che, boh, andate a dormire alle 2 e ve svegliate le 10 Ma te sembra logico? No, ieri sera erano le unici Ma volevo sentire il pacco regalo Fa sentire Senti tu, eh Ah Fa sentire Che ce n'è Che ma sa che ce n'è Ari, che hai detto? Fa nipotino qualcosa Se fa il cicolò Se fa il cicolò, basta, no? Il cicolò di che? Tu che dici? Io non dico niente Posso Nipotino Eh beh Eh, tu il vuoi nipotino? Eh beh Come il vuoi? Eh, il fondo misura Come il vuoi se nipotino col pennello? L'errore te con questi succiacci Ah Ma il pennello L'errore te puoi scegliere anche i pido Sì, pido Senti che pennello Annaggia Guarda come ride che è contento Che lo venga a svegliare Eh Ma non c'è da venire Sei arinato tu Guarda che pennello Annaggia Tocca P*** Pennello Vattene con questi cicciacci Ah Questo pennello Anna Maria Papi, è il cazzo del coglione No Anche lei Muova Ah bello Guarda Bello Guarda Chi è? Chi è? Eh L'angelo custode Bravo L'angelo Ma Bello 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 Ma che spettacolo Federico Eh Questo è bello Stai a morire Guarda Mamma mia Ma Anche Lucifero era un angelo E l'angelo custode Ma Lucifero era l'angelo Va via Era l'angelo Ma cazzo C'è sempre nominato D'ampezzone Ma via Dormimo Oh Su eh Che giorno d'ampezzo Tu sei un cane E figlio di una mignotta Rock Fa E' fatto E' fatto? E' fatto? Eh Sì Fa Ma va Fa Tu Fa Sì Ho imparato Ho imparato Ad andare in bici Chiaramente non qui Qui con la moto d'acqua Ecco qua Questo è il nostro percorso verde Dove nonno mi ha insegnato ad andare in bici Aspetta E' là C'è il piatto sopra Dio Cazzo No Oh Cazzo No Ma che delinquenni Già sono tre volte che telefona 49 grammi di pasta Guarda Rocchia 50 grammi di pasta Eh No perché Dimmi quant'anni Secondo voi quanti grammi sono? Commentate sotto questa storia Cazzo Cazzo Ma come sarebbe Stronzo 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 Sette volte Beh Ma come Ma che sta a fare tutte queste urne per il pezzo dei pinotti Ah per i pinotti Ho messo un'ora a capallo E il merone lo sai bagnallù E' bello Le foglie intorno le sono mangiate tutti i pinotti E' il nipote che è Ah te E' anche buono Ma che è? Anzi Li accappano in altro che muore il pasto Ma se Eh Tocca le accappano Mangiali le foglie fuori Mangiali tu Arriva al capo in altro E' buono no Mi piace più il dentro che il fuori E' già credo Mi piace più il dentro Anche da me mi piace Metterlo dentro No Pensate niente Può scordare Eh Si è sempre appensato lì Guarda nonna maria Di Di È Indignata E beh Si è sempre appensato lì Ragione Chi ha ragione Io Sempre E' vero Sua vita ha sempre ragione Qual è il problema Qual è il problema Ah non lo so Qual è il problema La notte rosso Va a pulire il forno Forno ne devi pulire Anche Anche le volpe Sono gli occhi rossi E che fanno Le volpe Mangiano le galline E dopo E dopo E dopo E dopo Cacano E poi E poi E poi Che fanno No Ma perché Senti che linguaggio Eh nonna maria Sempre Oh Sta zitto Girandolo Che Ti fanno Ma tu Sappiamo il palettino Direi Che è lui Che è Che tu Ne vedi a scappare Che è lui Che è lui O no Che è lui E' un figlio di una mignota Eccolo Rock Coccodrilli Se volete divertirvi un pochino In questa pausa pranzo Fate swipe up E andate a vedere Le nostre storie di ieri Su youtube E iscrivetevi Swipe up Vi ricordo che se acquistate dal nostro store Riceverete Le cartoline Con la firma mia E di nonno Faustino Eccola qua Guardate che felpa La felpa sarà numerata Ognuno avrà la sua O no Viene a firmare Viene a firmare Nonno Voi fate Swipe up C'è anche la tazza Buongiorno Un Oh Buongiorno Un Un cazzo Quindi fate swipe up Test Almanna Rancher Dove sta? Primo giro ho fatto bene Il secondo ho messo le rotine Ancora meglio Quindi Al top Jest Alla Alla come suona? sei carico? grande Andreone sempre con Vale saluta Vale grande ciao Vale tamburello tamburello grande tamburello sul parafango passo ma tu che mi rappresenti vestito così? io ho lavorato io invece come so vestito da? tu? mi pare Achille e Lauro ma e levate 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 bastone che tutto quello non lo faccio ma che io la farai a queste torte? ma io la farai che ti dà levate i coglioni ma perchè? e tu parca l'acqua eh? che stai a fare? eh? che cazzo che stai a fare? aprilo questo no? o no? aprilo chiudo chiudi? apro o chiudo? mannaggia che tu sei il re del forno? eh? sei il re del forno o no? vattene che ti do forza me le fa oh donna marice lucifero demonio ma va via là e per favore va via va via va via lo stai a fare lui mica io lasciamo via lo stai a fare lui lo stai a fare lui va via beh lo stai a fare lui zan zan ale è andata anche questa ma zan zan ci sta bene su tutte le fine dei canzoni piccolo strappa la regola ma ragazzi guardate la torta di pasqua raga donna mamma mia mamma mia mamma mia donna che schiacciate fa vai via la schiacciata vai altro che l'angeloni eh guarda che schiacciate guarda che schiacciate con la cipolla raga assurdo eh fa l'occhiolino ma dice che tu magni poco beh dicono eh beh che magno dicono eh eh dice che magni poco bevi anche un goccio d'acqua la basta basta te la dirò ma pensavo io non l'ho capito scusa te la dirò non l'ho capito non l'ho capito pasta allora mi chiedevo come mai eh quindi te versavo l'acqua capito è quello che mangia poco questa è la seconda quella la mangia qua la riduta quindi lei è quello che mangia poco eh scusi io so quello che mi vuoi cazzo mia eh ma che stai facendo ti trema il braccio fermati per te li porca oh mi cominciai a farmi per te mia eh ah fammi toccare il culetto ah che sei ma ne vuoi fammi toccare il culetto fammi toccare l'uccello ma è il culettino pandorino e quindi no wow wow aia 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 questo stronzo del mio nipote ma che gatto che gatto è questo del mio nipote ah 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 ma che tagliate che c'è il gatto ma io l'ho dato al caccio non dico io non vedrai che muo cosa la smetti mia 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 smettala fedeli mia mia mi piace mi piace rispondere ai vostri messaggi e ho notato una cosa mezzo milione di visualizzazioni su questo video qua continuate a iscrivervi al mio canale fate swipe e muo è ora in altro video mi diverto anch'io tantissimo a riguardare tutte le storie della giornata precedente così messe tutte in fila è finissimo eccole eccole anche voi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo su youtube ah 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 la cinema il ristorante a tempo vabbè sono ma una persona un po' seria è sempre un po' ma perché ho il telecomando doppio ma c'ho il telecomando doppio buonanotte ci vediamo domani è stata una bella giornata anche oggi domani arriva il giovedì che ci proietta direttamente nel weekend che non si potrà fare un cazzo perché ancora la situazione è quella che è ma non ci scoraggiamo sempre una bella carica tutte le mattine a domani